Nel 2020 a Padova c'è stato un boom di richieste per diventare cittadino italiano. 1108 gli stagneri che hanno avuto accesso alla cittadinanza. Un dato così alto si era ottenuto solo nel 2016 con 1500 richieste, mentre nel 2019 si erano fermati ad appena 567. Questi dati del report del Comune sui nuovi italiani dal 2007 al 2020, che registra tutti i residenti di Padova, diventati cittadini italiani. In 13 anni sono stati 9.110. Questo aumento è dovuto senza dubbio al cambio di normativa, cioè al trasferimento parziale di competenze dal Ministero dell'Interno alle prefetture. Inoltre il Comune ha potenziato l'ufficio dello Stato civile che si occupa delle pratiche di cittadinanza. Siamo riusciti a distruire molte più pratiche e a permettere a molte più persone di acquisire la cittadinanza. Inoltre si è velocizzata tutta la trafila attraverso un protocollo con la prefettura che ha permesso di passare online e eliminare alcuni passaggi della procedura che quindi oggi sono molto più fluidi. Il 32,6% dei nuovi cittadini italiani è nato in Italia e del 67,3% che sono arrivati nel nostro paese la quasi totalità ha acquisito la cittadinanza prima dei 20 anni. L'altro dato interessante è quello dei neo 18 anni a cui viene riconosciuto la possibilità di chiedere la cittadinanza al compimento appunto dei 18 anni ma entro il compimento dei 19 anni. Il dato si vede che è un dato consistente e questo ci pone degli interrogativi, in particolare rispetto al perché non dare la cittadinanza anche a questi nostri ragazzi con cittadini e ragazze che sono fin dall'inizio della loro vita presenti nel nostro territorio e quindi tutto il tema dello iussoli.